... L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Tra poco ci occuperemo del disegno di legge e falanga sull'abusivismo edilizio che domani sarà discusso al Senato dopo essere passato alla Camera. Stresce blu a Forio, il consigliere Mario Savio, sono molto remunerative per l'ente. Parleremo poi della raccolta differenziata a Procida con l'intervista al vice sindaco Titta Lubrano. Vedremo un servizio realizzato alla piscina comunale sui corsi di TMA per bambini autistici. C'è poi la pagina sportiva del lunedì con servizi ed interviste su Real Forio, Procida e Barano. Insomma di questo e di altro ancora ci occuperemo tra poco dopo la pubblicità. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia. Un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, quattro piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco a meno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo, per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche, tra il cielo e il mare. Sull'isola d'Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolordoppler, TAC multistrato, dentascan, MOC o zonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria, con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in rione Genala 16 a Forio, telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. La Conchiglia, nel centro di Forio. Collane, accessori, souvenir e tanto altro ancora. La Conchiglia ti propone un'attenta selezione di prodotti artigianali ischitani ed italiani. Vastissima produzione propria di collane, anelli e bigiotteria, in argento, corallo e pietre semipreziose. Personalizziamo la tua collana e il tuo anello, rendendo i tuoi gioielli un prodotto unico e in piena sintonia con la tua persona. Approfitta del laboratorio in sede per riparare o aggiornare le tue collane. In via Erasmo di Lustro dal 1973. La Conchiglia. Tuffati in un mare di colori e preziose fantasie. Trattati da re. Ora puoi. Il jolly re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly re Ferdinando Spa. Trattati da re. Abusivismo in Senato si torna a discutere il DDL Falanga. Domani la Commissione Giustizia di Palazzo Madama esaminerà il provvedimento approvato dalla Camera lo scorso mese di maggio. Il comune di Forio fa cassa con le strisce blu Mario Savio. In otto mesi abbiamo incassato 270 mila euro. Li investiremo in opere pubbliche a Monterone e a Panza. Raccolta differenziata approcci da comune virtuoso. Soddisfatta il vicesindaco Titta Lubrano. Ottimo risultato. Siamo su una percentuale del 71% con picchi del 76%. Ischia la piscina comunale TMA per bambini autistici. La terapia multisistemica in acqua prevede interventi di inclusione e di integrazione dei ragazzi e delle famiglie che vanno al di là del momento natatorio. Lo sport, il calcio, vince il Real Forio. Pareggiano Procida e Barano. De Felice e Castagna affondano la Mariglianese. Procida beffato al 95esimo dal Portici. Aquilotti ritornano a fare punti. Le interviste del dopo partita. E dopo il telegiornale a bordo campo. Tra gli ospiti il portiere della nuova Ischia Luigi Mennella. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Tele Ischia. Torna in Senato il DDL Falanga che istituisce nuovi criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione dei manufatti abusivi. Domani 14 febbraio la Commissione Giustizia di Palazzo Madama esaminerà il provvedimento approvato a maggio dalla Camera dei Deputati che di fatto con i due emendamenti a firma PD aveva stravolto l'impianto originario. Il nuovo testo aveva sollevato numerose polemiche soprattutto da parte del senatore Falanga. Vediamo il servizio. Torna in Senato il disegno di legge Falanga che istituisce nuovi criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. Il 14 febbraio la Commissione Giustizia di Palazzo Madama esaminerà infatti il provvedimento approvato a maggio dalla Camera dei Deputati che di fatto con due emendamenti a firma PD aveva stravolto l'impianto originario. Il disegno di legge Falanga era stato pensato soprattutto per la regione Campania dove si stimano 80.000 alloggi abusivi e dove il 70% dei comuni non ha un piano regolatore. Nell'intenzione del primo firmatario il magistrato, qualora si fosse trovato a gestire una pluralità di procedure avrebbe dovuto seguire un ordine di priorità blindato. Per primi sarebbero dovuti essere abbattuti gli immobili che per condizioni strutturali, caratteristiche o modalità costruttive costituivano un pericolo già accertato per la pubblica e privata incolumità. Poi quelli in corso di costruzione o comunque allo stato grezzo e non ultimati. Successivamente gli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività criminali e così via sino ad arrivare all'abusivismo di necessità. Categoria intorno alla quale si erano sollevate numerose polemiche poiché non identifica una specifica fattispecie giuridica. La versione approvata dalla Camera prevede che venga data priorità ai manufatti in corso di costruzione o non conclusi e dalle seconde case. Contemporaneamente però il nuovo testo stabilisce che nel definire le priorità si tenga adeguatamente conto degli immobili a rilevante impatto ambientale costruiti cioè su demagno o aree soggette a vincolo ambientale, paesaggistico, idrogeologico, archeologico o storico. Di fatto la versione originaria avrebbe reso più difficile gli abbattimenti mentre quella approvata dalla Camera mira unicamente a una razionalizzazione delle procedure di demolizione degli abusi edilizi riconosciuti tali da condanna definitiva. Il nuovo testo sollevò numerose polemiche soprattutto da parte del senatore Falanga il quale nel constatare che il testo era stato completamente stravolto promise battaglia non pensino, dichiarò, che noi staremo fermi al Senato, noi verdignani saremo un muro invalicabile non potremo mai votare un provvedimento del genere. La battaglia ora torna a Palazzo Madama dove non si escludono sorprese e stravolgimenti nelle alleanze in campo soprattutto alla luce dei nuovi equilibri che nel frattempo si sono stabiliti. Il processo penale Norman Atlantic dopo una lunga attesa è stata finalmente depositata la perizia redatta dagli esperti nominati dal GIP quasi un anno fa. Si tratta di una imponente massa di dati nella quale si esaminano le cause che portarono al disastro della Norman Atlantic che avvenne il 28 dicembre 2014 mentre il traghetto navigava nelle acque tra Puglia ed Albania con a bordo poco meno di 500 persone di queste 11 persone sono morte e altre 18 risultano ancora disperse. Nell'equipaggio del Norman Atlantic c'erano anche due marittimi di Procida Luigi Giovine, primo ufficiale di bordo e Gianluca Assante, ufficiale di macchine. Il dossier dei periti diventerà il cuore del processo sulla vicenda ma vista la complessità delle indagini svolte su incarico del Tribunale Penale di Bari della monumentale massa di dati si è deciso di fissare un certo numero di udienze per illustrare i risultati. Le udienze si terranno il 20 e il 31 marzo e dal 3 all'8 aprile nell'aula Bunker di Bitonto. Nel processo sono indicate 16 persone per cooperazione colposa e naufraggio, omicidio plurimo e lesioni. Oltre al comandante e ai membri dell'equipaggio risultano sotto inchiesta anche l'armatore Carlo Visentini ed il rappresentante legale della Anec Lines, società noleggiatrice del Norman. A Dischia, quattro mesi dallo smottamento, via Leonardo Mazzella è ancora dissestata e quindi molto pericolosa per scuteristi ed automobilisti. Nonostante le richieste dei residenti, la messa in sicurezza della strada non è stata ancora effettuata. Vediamo il servizio di Gennaro Savi. Nel mese di novembre 2016, in via Leonardo Mazzella, la strada sulla quale pochi mesi prima erano stati effettuati i lavori pubblici, si verificò uno smottamento e una macchina rimase incastrata con la ruota anteriore sinistra nel lavoragine apertasi nel selciato. Per consentire la riapertura al traffico veicolare dell'importante arteria stradale, la lavoragine fu chiusa alla meno peggio e chi sperava che a qualche giorno di distanza da quell'intervento provvisorio l'amministrazione comunale avesse provveduto a farla asfaltare per farla mettere definitivamente in sicurezza, si è sbagliato di grosso. Infatti, a circa quattro mesi di distanza, quel tratto di strada non è stato più asfaltato e per circa 20 metri, tra avallamenti e buche, il dissesto è talmente pericoloso che se non si interviene subito, prima o poi ci scappa l'incidente. Nel mentre effettuavamo le riprese del vergognoso e pericolosissimo stato di pauroso dissesto stradale in cui versa questa porzione di via Leonardo Mazzella proprio nei pressi di un incrocio e che mette a repentaglio l'incolumità di pedoni, automobilisti e soprattutto scuteristi, un residente della zona ci è avvicinati per dirci che in tanti di loro da svariati mesi chiedono la messa in sicurezza della strada, ma nonostante questo sino ad oggi nessuno è intervenuto. Da domani inizieranno i lavori di manutenzione in via Foschini a Dischia per rendere possibili le operazioni il comandante della Polizia Municipale Pugliese ha emanato un'ordinanza con la quale stabilisce che da domani e per tutta la durata dei lavori in via Foschini sarà vietata la circolazione. È istituito il senso unico in via Leonardo Mazzella a partire dall'incrocio con via Foschini fino all'incrocio con Traversa Monte Tignuso. In deroga potranno percorrere via Leonardo Mazzella anche nell'altro senso solo i veicoli dei residenti nel tratto che va dall'incrocio con via Foschini fino all'incrocio con la Traversa Monte Tignuso. A Forio le strisce blu saranno gestite dal comune molto più redditizio per l'ente sottolinea il consigliere di maggioranza Mario Savio. In otto mesi abbiamo incassato 270 mila euro. Con questa somma procederemo a definire il parcheggio di Rione Umberto I a Monterone e a riqualificare il parcheggio Cenerento La Panza ed il parco giochi per i bambini. Vediamo Mario Savio. Gestione delle strisce blu a Forio. Quali le novità? Mario Savio. Le novità è che già dal 2016 ha gestito il comune di Forio in otto mesi abbiamo incassato 270 mila euro che in precedenza nel 2012 e nel 2010 quando gestiva la SIS con la vecchia amministrazione noi avevamo 70 mila euro di agio. Oggi ci dà la possibilità di definire il parcheggio a Rione Umberto I con questi soldi e parte di un vecchio finanziamento e inoltre ci dà la possibilità di riqualificare tutto il parcheggio di Parcheggio Cenerentolo a Panza in più faremo un ex nuovo il parco gioco per i bambini. Quindi diciamo a breve partirà a breve partirà verso il primavera partirà il nuovo bando di gara e questo quell'introito dell'estrisce blu che avremo in ricavo servirà appunto per definire sia il parcheggio di Monterone sia il parcheggio di Cenerentola. Si continuerà con una gestione comunale allora per l'estrisce blu? L'estrisce blu oramai è definito lì gestirà il comune di Forio. Avete visto che insomma l'incasso è poderoso quindi riuscite a fare cassa e a poter gestire poi altre situazioni? La cassa sicuramente non la pagano i cittadini di Forio perché come abbiamo preso l'impegno in campagna elettorale sicuramente si andrà a definire l'impegno che andiamo a fare diciamo andiamo a stipulare con la nuova ditta che darà solamente il servizio sia dei parcomidi sia della vigilanza e rientreremo nei costi che abbiamo promesso in campagna elettorale e il turista che viene sull'isola pagherà i servizi e le opere che andremo a definire. Quindi opere che saranno comunque che rimarranno sul territorio? Sicuramente la nostra intenzione era proprio questo usufruire delle strisce blu per fare opere pubbliche. Quindi si incomincia con queste due opere però non si esclude che ce ne siano poi altre. Certo appena che incassiamo i soldi cercheremo di investirli subito. A Forio è evidente che l'azione amministrativa del sindaco del Deo e della sua amministrazione va nel solco della continuazione con la passata gestione regine lo scrive Nicola Mannna responsabile del movimento politico Aria Nuova che aggiunge ragion per cui sarebbe più coerente come sta già avvenendo che del Deo si presenti ai Foriani alle elezioni amministrative del 2018 con un'alleanza organica con la vecchia amministrazione così i Foriani avranno dinanzi a loro chi ha devastato ed umiliato questo paese negli ultimi 20-25 anni e dall'altra parte chi vuole riconsegnare dignità a tutto il popolo foriano come sta tentando di fare questo movimento politico aria nuova all'acqua meno è stato convocato per domani alle 18 il consiglio comunale un solo punto all'ordine del giorno all'adesione alla società consortile a responsabilità limitata sviluppo mare isole di Ischia e Procida l'argomento era uno dei punti all'ordine del giorno nella seduta consigliare del 7 febbraio però la discussione era saltata per mancanza del parere del revisore dei conti rifiuti ottimi risultati a Procida per la raccolta differenziata siamo abbastanza soddisfatti per gli ottimi risultati lo sottolinea il vice sindaco Titta Lubrano siamo su una percentuale del 71% con picchi del 76% questo significa che gran parte dei rifiuti a Procida sono differenziati sentiamo e quanto attiene il settore insomma relativo ai rifiuti possiamo dire di essere abbastanza soddisfatti e quindi di questo ringrazio i cittadini che si impegnano nella raccolta differenziata dei rifiuti perché ormai abbiamo si siamo assestati sulla percentuale del 71-72% con picchi addirittura del 76% questo significa in qualche modo che la gran parte dei rifiuti vengono differenziati e vengono quindi destinati al riciclo mentre una minima parte che dobbiamo cercare di ridurre sempre di più viene invece inviata alla discarica e quindi all'ingenerimento alla formazione diciamo di balle l'obiettivo deve essere come dicevo quello di di differenziare sempre di più e soprattutto di ridurre la quantità dei rifiuti dobbiamo dire che se è vero che la percentuale di raccolta differenziata ci fa ben sperare quindi di crescere ancora di più come percentuale non ci dobbiamo dobbiamo dimenticare che l'obiettivo vero reale è quello di diminuire il peso il flusso di quanto noi dobbiamo in qualche modo smaltire su questo continuiamo in un'opera di sensibilizzazione non escludiamo anzi prepariamo delle iniziative grazie chiaramente a un gruppo di volontari che mi segue in questa esperienza quale può essere e quale deve essere lo stile di vita che dobbiamo cercare tutti me per prima di implementare quello della scelta e dell'uso di prodotti che abbiano meno imballo possibile su questo possiamo intervenire quindi creare un flusso chiaramente per il commercio allo sfuso che oggi approcita ancora non ha preso piede ma su questo possiamo ragionare stiamo ragionando con le attività commerciali e quindi soprattutto scegliere prodotti che abbiano imballi anche che naturalmente di minor peso e di un solo materiale perché il misto di questi materiali rende quell'involucro non riciclabile e quindi va ad ingrossare il secco il secco residuale il secco residuale per noi deve essere e abbiamo coniato questo slogan il sacco più secco di casa nel senso che ridurre il secco indifferenziato che poi alla fine nel menaggio di una famiglia veramente si riduce a pochissimo ridurlo come quantitativo nell'ottica chiaramente però di una riduzione complessiva del flusso dei prodotti e dei difiuti che circolano in una casa a Procida si procede con l'intervento di impermeabilizzazione della palestra della scuola media un mese fa il vento forte fece staccare i fogli di asfalto ormai logori dopo la loro posa dell'inizio degli anni 80 nel frattempo erano stati realizzati solo piccoli interventi di tamponamento oggi spiega il sindaco Ambrosino investiamo circa 30.000 euro che si sono resi necessari per smaltire tutto il vecchio materiale e rifare da capo l'intervento come fu un anno fa per l'emergenza a Corricella pur nelle nostre ristrette possibilità economiche stiamo gestendo dignitosamente una situazione straordinaria non preventivata il comune di Procida aderisce all'iniziativa europea mi illumino di meno patrocinata dalla Camera del Senato e del Ministero dell'Ambiente nata per sensibilizzare tutti i cittadini a risparmio energetico il 24 febbraio a Procida si spegneranno dalle 12 alle 12.05 tutti i dispositivi elettrici e si attueranno forme creative di risparmio energetico condividendo nello stesso tempo un gesto simbolico contro lo spreco delle risorse a tal fine domenica prossima con l'aiuto dei volontari dell'assessorato partecipato a Miente Decoro si darà vita ad un evento di decoro creativo denominato Decoriamoci per millumino di meno 2017 realizzando lavori di riciclo per la produzione di piccole candele e condividendo uno scambio di giocattoli usati ma anche un passaggio in auto organizzando con cenne collettive nei condomini e nei caseggiati mettendo a disposizione dei vicini la propria rete internet e condividendo con gli altri qualche propria risorsa la città metropolitana comunica che da domani dalle 9 alle 13 sarà ripristinato il servizio del centro per l'impiego presso il comune di Procida per adesso è prevista la presenza dell'addetto ogni due settimane colgo l'occasione per informare dice il sindaco Ambrosino che i servizi del centro per l'impiego vengono anche offerti gratuitamente dai CAF dell'isola che si sono convenzionanti con la città metropolitana torniamo a Dischia presso la piscina comunale l'associazione genitori autismo ha organizzato dei corsi di terapia riabilitative ed inclusiva in acqua per ragazzi e bambini affetti da autismo i corsi di TMA terapia multisistemica in acqua seguendo il metodo caputo ipolito prevedono interventi di inclusione e di integrazione dei ragazzi e delle famiglie con una serie di attività che vanno al di là del momento natatorio vediamo di cosa si tratta una interessante iniziativa dell'associazione autismo ischia che si svolge presso la piscina comunale analisa nicotra sì abbiamo voluto avere questo momento per informare i genitori che possono essere interessati che l'associazione genitori autismo ischia ha iniziato a collaborare con il metodo TMA metodo caputo ipolito e qui ad Ischia già dal mese di gennaio sono iniziati i corsi in acqua per la terapia riabilitativa ed inclusiva dei ragazzini e dei bambini affetti da autismo dicevamo inclusiva perché non si riferisce soltanto all'acqua ma un po' a tutto il territorio certo l'intervento dell'ATMA è un intervento proprio di inclusione di integrazione dei nostri ragazzi ma anche delle famiglie l'ATMA organizza soprattutto anche vacanze weekend gite escursioni quindi tutta una serie di attività che vanno al di là appunto del diciamo del momento vero e proprio natatorio che serve proprio come momento diciamo di creare per creare una comunicazione un contatto con i nostri ragazzi ma ci sono in procinto anche altre iniziative per i prossimi mesi importante è sottolineare che questa è una terapia dove il bambino ha contatto con l'operatore uno ad uno che i genitori possono assistere alla terapia quindi vedono come il bambino interagisce con l'operatore vedono quali sono i risultati di volta in volta che si frequenta la piscina in questo momento come dicevamo sono operatori che vengono da Napoli una volta a settimana il sabato noi abbiamo necessità di implementare la collaborazione e cerchiamo collaboratori qui sull'isola d'Ischia perché l'ATMA fa la formazione farà un corso di formazione ad aprile quindi chiunque fosse interessato preghiamo di contattarci come associazione daremo tutte le informazioni oppure di contattare direttamente l'ATMA metodo caputo e polito di Napoli sono aperte le iscrizioni è importante creare delle risorse direttamente qui sul territorio per poter avere servizio in acqua servizio a terra ed è importante anche creare lavoro quindi i nostri ragazzi potranno lavorare qui a Dischia perché è un'attività che può procedere 365 giorni l'anno sarà una festa degli innamorati bella grazie al tempo stabile mite l'anticiclone di San Valentino aprirà una fase in cui la farà da padrone all'alta pressione se fino a domani spiega Edoardo Ferrara meteorologo di trebimeteo.com avremo ancora della nuvolosità irregolare su gran parte della penisola ma in particolare su Sardegna e nord-ovest dove sarà possibile qualche sporadica pioggia da mercoledì l'anticiclone sarà più convinto con sole dominante quasi ovunque le temperature saranno in generale aumento specie nei valori massimi tanto che in alcune zone si respirerà aria di primavera durante le ore pomeridiane l'anticiclone di San Valentino dovrebbe durare fino a venerdì prossimo per poi indebolirsi nel weekend e siamo all'ampia pagina sportiva del lunedì incominciamo dal campionato di eccellenza calcio tre punti d'oro per il Real Forio allo stadio Calise non passa la mariglianese battuta dai bianco-verdi per 2-0 una vittoria importante contro una diretta concorrente per la salvezza diretta arrivata con non poche difficoltà nonostante l'uomo in meno i ragazzi di Impagliazzo sono riusciti a trovare il 2-0 con De Felice e a conquistare una vittoria che mette una seria ipoteca sulla salvezza diretta visti soprattutto i risultati più che favorevoli delle dirette concorrenti ma vediamoci questi gol di dato cross basso la Ciccalo tutti De Felice e poi Castagna 1-0 Forio 1-0 Forio si allarga lui sulla destra Trofa vai nei pressi della bandierina pallone che diventa buono per Vitagliano Vitagliano in aria ancora Vitagliano Vitagliano e il gol 2-0 Forio ha segliato De Felice è partita virtualmente chiusa nel dopo partita mister Impagliazzo ha sottolineato l'ottima prestazione dei suoi calciatori con questa vittoria Real Forio si porta a 8 punti dalla quinta ultima mettendo una seria ipoteca sulla salvezza diretta vediamo con mister Impagliazzo del Real Forio mister vittoria importante contro la Mariglianese non era facile ma anche oggi una gran bella prestazione dei tuoi ragazzi ma sicuramente non era facile perché era una squadra molto molto organizzata nel primo tempo si sono posti tutte e dieci dietro la linea della palla cercavano di farci trovare le giocate quindi abbiamo dovuto anche ritardare un attimino e quindi trasferire la palla da un lato all'altro abbiamo impiegato un po' di tempo un po' di lentezza anche se poi nel primo tempo comunque abbiamo avuto due palle goal clamorose con Castagna che ha divorato due goal a pochi metri dalla porta nel secondo tempo appena si sono allungati un attimino abbiamo avuto la fortuna di fare il primo goal e poi dopo pure in dieci uomini abbiamo avuto la bravura di poter fare il secondo goal abbiamo sferato con Davide Trofa tu per tu col portiere del terzo goal però abbiamo rischiato anche su qualche palla dove potevamo potevamo riaprire la partita sono contento perché al di là del risultato che è un risultato importantissimo significa tenere la quintultima a otto punti e la quartultima a nove punti abbiamo fatto un grossissimo balzo in avanti quello che è importante è la prestazione la prestazione dove i ragazzi hanno cercato sempre di venire fuori attraverso il gioco eppure in inferiore numerica ci siamo riusciti parecchie volte Hai trovato l'assetto giusto con questo 3-5-2 anche in termini di uomini tendi a cambiare poco c'è intesa adesso tra la squadra anche i due ragazzi in attacco con due giovanissimi un 97 e un 96 stanno facendo grandi cose ma ma lo stesso Costagliola lo stesso Chiaise quando vengono chiamati in causa stanno dando il loro contributo la prossima settimana però settimanalmente perdiamo sempre qualcuno e questa è una pecca che ci stiamo portando avanti dall'inizio dell'anno la settimana prossima recuperiamo Fanelli e Toni Costagliola come squalificati però perdiamo Castagna è un dato di fatto che ormai il campionato mancano dieci partite alla fine però se per venti partite ogni settimana portiamo sempre qualche espulso a lungo andare poi qualche partita la paghiamo in effetti in effetti l'unico ne è questo hai detto qualcosa a Castagna altra espulsione gratuita ma lui diceva che che non aveva corso verso l'arbitro ma verso il difensore che gli aveva dato una manata in faccia però nel campo certe cose non bisogna ci stanno fanno parte del gioco però poi non bisogna sempre comunque cercare di reagire e farsi giustizia da solo perché la giustizia da solo non ti porta da nessuna parte ci porta solo a essere danneggiati settimanalmente in chiusura vedi questa salvezza diretta più vicina abbiamo fatto un buon balzo in avanti manca qualche punto altri 5-6 punti cerchiamo di racimolarli il più presto possibile domenica abbiamo una partita difficilissima a San Giorgio poi avremo una partita sulla carta più abbordabile col Casagiove e poi dopo ci andremo a confrontare con le squadre che vanno per la maggiore dopo la sconfitta di ieri mattina a Forio mister Papa allenatore della Mariglianese ha presentato le proprie dimissioni dopo otto anni mi dimetto per il bene di tutti ha detto l'allenatore dopo otto anni è arrivato il momento di salutare questa è una squadra che ha bisogno di una nuova figura tecnica ha bisogno di nuovi stimoli e nuove motivazioni c'è tutto il tempo per salvarsi ma da oggi la mente di gran parte del gruppo è piatta quindi è giusto che paghi l'allenatore il Procida sfiora una grande vittoria che la squadra bianco-rosso avrebbe in realtà meritato il Portici sotto di 3-1 al novantesimo rimonta con 2 gol nel recupero 3-3 il risultato finale solo 5 sostituzioni e nessuna particolare interruzione del gioco alla fine 6 minuti di recupero e la rimonta che ne consegue mettiamo i gol ancora il Portici con panico il cross in mezzo per Fava Portici in vantaggio ha segnato Fava completamente libero in aria ha dovuto solo appoggiare la palla in porta non preciso recupera la palla del Portici Dago Sperandeo Sperandeo per Dodò Dodò salta il portiere ed è un gioco da ragazzi il gol del pareggio per Dodò 1-1 grande palla di Sperandeo che serve Dodò che salta benissimo il portiere e fa 1-1 portiere attento punizione è il gol di Napolitano Procida passa in vantaggio calcio di punizione di Napolitano errore di testa ancora il Procida però palla in mezzo per Dodò Dodò tira in crociare e c'è il gol del 3-1 del Procida Dodò doppietta personale gran gol di Dodò se lo divora il Portici il gol del 3-2 fino a quando la palla arriva in coronato che incrocia e fa il gol del 3-2 al 45esimo del secondo tempo l'albero in questa occasione concede 6 minuti di recupero e all'ultima occasione all'ultimo minuto colpo di testa di Murolo per in coronato e pareggia al 51esimo il Portici 3-3 grandissimo il gol di incoronato grande entusiasmo nel dopo partita in casa Portici per il pareggio agguantato all'ultimo minuto vediamo le interviste all'allenatore Porrelli e al direttore sportivo Stiletti oggi è stato un grande spettacolo noi sapevamo l'importanza della partita Procida anzi faccio i complimenti a Miss Mandragora perché il Procida ha fatto una grande gara ha fatto una gara importante perché è venuta qua a giocarsela e noi sapevamo che per loro era un treno importante per la corsa playoff vista la distanza che ci è stata la terza e il Procida quindi per accorciare le distanze e per giocarsi poi dopo lo scontro contro il Savoia a Procida dovevano per forza fare il risultato con noi noi siamo stati ma la squadra non ha mollato mai e questo è quando una squadra vive pareggia al 95esimo con un gran golo di Marco Incoronato e questo vuol dire che una squadra ipottice ha un carattere e non muore mai quindi questo è sinonimo di grande squadra e grande gruppo siamo stati bravi a ribaltare una situazione dove purtroppo abbiamo avuto i due gol che abbiamo subito abbiamo visto è stato quasi un regalo quindi siamo stati bravi fino all'ottimo minuto a crederci a ribaltare la partita quindi onore ai ragazzi questo punto vale oro ed è più bello pareggiare con un aerocall che non qualche rigore regalato o qualche episodio a favore e che dopo rimane spero che si vigili su queste cose perché stanno succedendo le cose molto strane su altri cambi procida beffato dal portici e dall'arbitro dire che siamo amareggiati è poco commenta il direttore generale Nicola Crisano la partita è stata preparata tutta la settimana a livelli importanti ora è arrivato il momento di dire basta siamo stanchi di ricevere questo trattamento contro il portici c'è stato un arbitraggio che ci ha sfavorito l'ennesimo di questa stagione torna finalmente a fare punti il Barano che in quel di Volla pareggia 1 a 1 non tantissime le occasioni da gol 2 per parte al di fuori delle reti decisive il primo tempo si è concluso sullo 0 a 0 nella ripresa è arrivata la rete di Alterio al 64esimo gli Aquilotti sono riusciti a trovare il pareggio sfruttando il calcio di rigore con Mario Sogliuzzo che ha portato i suoi sull'1 a 1 vediamo i gol blocca la sfera vanza il portici il cross di Emma per Alterio è il Volla si porta in vantaggio 1 a 0 Virtus Volla vediamo la grande giocata di Emma che crossa per Alterio che deve solo spingere in porta Farina il cross ha tirato Cantelli e l'albitro indica il dischetto calcio di rigore per il Barano Sogliuzzo 1 a 1 Barano esecuzione perfetta del numero 10 un punto che fa morale ha commentato l'allenatore in seconda del Barano Ciro Mennella però potevamo fare di più sentiamo Ciro Mennella l'allenatore in seconda del Barano Ciro un punto importante oggi eh sì anche alla luce dell'ultimo mese di gennaio che venivamo comunque da quattro sconfitte consecutive è un punto che fa morale è un punto importante anche se c'è un po' di rammarico perché si poteva fare qualcosina in più in vista delle assenze che avevamo e della partita di come si è svolta è un peccato però è un punto da dove da cui ripartire per noi importantissimo questa sera con la trasmissione sportiva di Teleischia a bordo campo il commento la puntata odierna vedrà la partecipazione del portiere della nuova Ischia Luigi Mennella ex Ischia Isola Verde del difensore del Real Forio Giovanni Calise in studio mister Nello Desiano e il giornalista Simone Vici Domini verranno approfonditi i temi sui match del weekend Real Forio Mariglianese Virtus Volla Barano Portici Procida e Rinascita San Giovannese Duoma Ischia i telespettatori possono intervenire via Facebook o attraverso il telefono la trasmissione in onda intorno alle 21.15 in diretta con le successive repliche potrà essere seguita sul digitale terrestre oppure in streaming sul sito di Teleischia prima categoria inizia bene il girone di ritorno per il mondo sport Casa Micciola dopo la vittoria del derby con il Lacquameno i ragazzi di Mister Buonomano fanno visita allo Sporting Campania sul campo di terra battuta di Vittorio Di Barra e si aggiudicano il match con il risultato di 2 a 1 calcio a 5 nella serie C2 la Futsal Ischia è stata sconfitta dal Real San Vitaliano 8 a 3 in serie D la Virtus Ischia ha battuto il Bacoli 11 a 1 il Forio è stato sconfitto dal Child Dream 6 a 5 la Procida Futura ha battuto l'Oratorio San Ludovico 5 a 4 per il basket in serie D la Cessistica Ischia ha battuto il Folgo Renocera 70 a 68 in promozione l'All Mix Basket ha battuto il Forio Basket 65 a 54 esordio casalingo per i ragazzini della Cessistica che dopo la vittoriosa trasferta del Vopero hanno affrontato la forte Partenope partita senza storia sin dalle prime fasi di gioco e Partenopei si sono subito portati avanti nel punteggio gli isolani sono scesi in campo insicuri e fatto qualche eccezione con poca voglia di lottare il gemellaggio tra Cessistica Ischia e Partenope si consolida sempre di più domenica mattina nella Sogniuzzo c'è stata una grande festa che ha visto protagonisti i bambini della categoria Aquilotti delle due società di basket è stata una mattinata all'insegna del divertimento ed è stata la prima vera esperienza il primo approccio al vero basket molti bambini di questi gruppi hanno iniziato da pochissimo ad approcciare alla palla a spicchi e pertanto è stata un'occasione importante per confrontarsi con altri bambini la palla a volo in Serie C i giardini Poseidon in Forio hanno battuto il ribellino volley 3 a 0 la futura volley è stata sconfitta dalla tipografia Graziano 3 a 1 l'ischia pallavolo maschile è stata battuta dall'Accademia Normana 3 a 0 in Serie Di Femminile l'ischia pallavolo ha battuto il volleyo 3 a 0 domenica a Portici gli atleti del settore propaganda dell'Auras Ischia hanno preso parte alla terza tappa Campioni Campani circuito organizzato dal comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto presso il centro sportivo Portici alla manifestazione erano presenti oltre 1300 atleti provenienti da tutte le scuole nuoto della Campania dai più piccoli ai più grandi sono ben 23 gli Aurassini che hanno preso parte alla manifestazione regionale ed ora spazio al meteo vediamo che tempo farà sulla nostra regione Previsioni per oggi al mattino sulle coste schiarite con transito di velature sparse in montagna cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita nel pomeriggio sulle coste schiarite con transito di velature sparse in montagna cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita Previsioni per domani al mattino sulle coste parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti in montagna molte nubi con deboli fiodigini nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni in montagna schiarite alternate a nubi sparse a nubi sparse bene studiamo questa edizione del nostro telegiornale vi lascio alla trasmissione sportiva del lunedì a Bordocampo il convento al direttore Enrico Buro e ai suoi ospiti e noi ci rivediamo come sempre all'edizione delle 14 arrivederci Grazie Grazie